L'avventura è l'essenza di ogni mia singola giornata. L'avventura per me è vita, è la massima espressione di quello che è il mio sogno. L'avventura è quell'emozione che ti permette di rimanere vigile, attento, di non commettere errori. Il coraggio è quel trampolino che ti permette di fare quel salto e di andare oltre, spesso oltre la paura. Si sa che ogni avventura può andare male, però l'importante è non confondere la rinuncia con il fallimento. L'unico fallimento è quando non si torna più a casa. Quello è il vero fallimento. Quindi la rinuncia è esperienza. In questo mondo frenetico, tutto sembra facile, tutto sembra facilmente realizzabile, rimane spesso ben poco. Ma sono le emozioni le cose che rimangono, sono le emozioni il fuoco della vita. L'emozione è qualcosa che ci permette di andare oltre. Trovarmi da solo in avventura è spesso un gioco senza reti. Ogni decisione dipende da me e solo da me. In quel momento sono vivo e sto facendo qualcosa che ho cercato io. Sono curioso, sono spinto da una voglia di scoperta, da una voglia di conoscenza, esplorare me stesso ed esplorare il mondo nelle sue forme più estreme e difficili. I limiti esistono e sono presenti in ognuno di noi, ma sono presenti qui. Perché i limiti esistono soltanto nella nostra testa.